ragazzuole sto facendo il trattamento quello per la ritenzione idrica e solito che ho fatto il nere già altre volte l'avete già visto comunque dopo vi ho visto tutti i dettagli allora ho fatto il trattamento vedete la macchina quella e allora se chiamate o comunque scrivete facendo il mio nome e cognome avrete diritto al 20% di sconto su qualsiasi trattamento ce ne sono tantissimi chiedete quindi papi cosa dici con gli occhiali cosa dici è una beata minchia è solo un gel e tende l'unica cosa che senti tu è che può arrossarsi un pochettino quindi senti un pochino di calore sul volto dove andiamo a saltare è cutaneo quindi non sono siringhe non devo entrare nella pelle non devo pungere quindi non è nessun fastidio e nessun dolore ma viene fatto un massaggio leggero con un pennellino in modo da far entrare poi il prodotto in profondità fin quando non viene riassorbito tutto gli effetti sono in realtà sono fantastici perché abbinano la potenzialità di un peeling per cui contenendo anche del tricolo acetico agisce un pochino anche sulle macchie su uniformare un po' il viso in quest'area qui in modo che andiamo a togliere queste rughettine che sono un po' antipagno in realtà sono quelle del fumatore ma te non fumi no test vedi perché però probabilmente muovi molto la bocca sì e quindi si formano queste rughettine vero Ludo che muovo sempre la bocca sì quando si può quando un bacio normale come cosa dici che il dottor bovi è bravissimo bene perfetto lo consigliamo tutte le mamme per il codice a barre sì bene siamo uscite adesso e come stai mamma bene vedo già scomparire il codice a barre il codice a barre io invece raga ho la pelle mega liscia e l'effetto comunque si vede dopo tipo una settimana è arrivato adesso adesso adesso